io vengo da te Sì, grazie Alberto come sempre arriva il momento del nostro dotocalco però prima vogliamo fare una sorpresa a un'amica che oggi compie gli anni intanto voglio capire se il nostro complice è pronto Giovanni Terzi, ci sei Giovanni? Sì, siamo collegati Allora ci porti da Simona Ventura Ciao Sia Allora, aspetta un secondo che arrivo perché qui un secondo Non facciamo un amore Aiuto Tanti auguri Aspetta Tanti auguri Simona Mannaggia, grazie Che sorpresone Hai visto? Abbiamo avuto un gancio fantastico Simona Ciao Lorella, amica mia Grazie Intanto buon compleanno Io ho visto che avete praticamente cominciato a festeggiare dalla mezzanotte appena scoccata Hai visto? Devo dire che è un compleanno veramente un po' perché qualcosa di buono abbiamo fatto ma anche perché insomma siamo un po' tutti a casa Il primo aprile se lo ricordano sempre tutti Lorella quindi praticamente ho avuto tantissimi auguri questa è una sorpresa bellissima grazie amica mia veramente Grazie È un tanto tanto piacere anche perché penso che questo Simona a parte tutto sia uno dei compleanni che forse ricorderai no? Di più No direi che è il compleanno che ricorderò ovviamente perché è un compleanno particolare siamo in quarantena però ti devo dire che è un po' di giorni che penso che questo periodo passerà e ovviamente stiamo vicini alla sofferenza è un periodo di grande sofferenza però io credo che noi ce la faremo ma non lo dico per dire ma ne sono assolutamente certa e saremo migliori da un certo punto grazie a tutti